vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org in nomine patris et fili et spiritus sancti amen la dottrina della santissima trinità è un mistero cioè una dottrina oscura alla ragione che la sola ragione non può raggiungere né completamente comprendere la dottrina della santissima trinità si chiama il mistero dei misteri o il mistero per eccellenza che anche dopo la sua rivelazione la ragione non può penetrare che minimamente il termine trinità significa un solo dio in tre persone divine o tre persone divine in un dio ovvero il dio uno e trino la prima persona è il padre la seconda persona è il figlio la terza persona è lo spirito santo per comprendere le relazioni tra le tre persone bisogna iniziare con le parole del credo il figlio è nato dal padre prima del tempo e spiritum sanctum qui ex patret filio procedit lo spirito santo procede dal padre e dal figlio la santa madre chiesa insegna infatti che il figlio procede dal padre e lo spirito santo procede sia dal padre che dal figlio il padre è la prima persona non perché è superiore alle altre persone ma perché è il principio delle altre persone le altre due persone procedono da lui nel senso che hanno origine in lui mentre lui non ha origine in altra persona né procede da altra persona quanto al modo di procedere il figlio procede dal padre in via generazioni tu sei mio figlio ed io oggi ti ho generato il padre genera il figlio dunque non lo fa non lo crea perché sono coeterni si intende questo modo di procedere come un procedere del figlio dall'intelletto del padre perché la funzione dell'intelletto è di generare un'immagine lo spirito santo invece procede dal padre e dal figlio in via aspirazioni il padre ed il figlio non lo fanno non lo creano perché anche lui è coeterno al padre e al figlio si intende questo modo di procedere come un procedere dello spirito santo dalla volontà del padre e del figlio dall'amore reciproco del padre e del figlio per questo lo spirito santo si chiama anche amore le tre persone divine costituiscono insieme un solo dio si distinguono in virtù di queste loro relazioni l'una all'altra come nell'uomo i due principi anima e corpo esistono in una sola persona così in dio tre persone esistono in una sola sostanza ci sono due immagini che ci possono far capire meglio la distinzione delle persone in un solo dio la prima immagine è quella del riflesso di un uomo in uno specchio la esporremo brevemente nell'articolo su dio padre la seconda è quella del sole nel sole si possono osservare tre cose il corpo del sole la sua luce ed il suo calore il corpo del sole è la sorgente della luce e del calore come il padre è il principio delle altre due persone il raggio emana dal sole come il figlio procede dal padre ed il calore deriva dal sole e dal raggio come lo spirito santo procede dal padre e dal figlio ma il sole il raggio ed il calore fanno insieme una sola cosa come le tre persone divine sono insieme in un solo dio questa immagine ci aiuta a capire anche come il figlio è luce ossia la luce dell'intelletto del padre e come lo spirito santo è calore ossia il calore dell'amore che unisce il padre ed il figlio l'immagine ci aiuta a capire ugualmente come le tre persone divine si relazionano a vicenda fuori tempo poiché il sole non è anteriore al raggio ed il raggio non è anteriore al calore bensì il sole, il raggio ed il calore incominciano tutti e tre insieme e vanno sempre insieme sono distinti ma non disgiunti nelle parole del Catechismo di San Pio X operano insieme ed inseparabilmente coesistono simultaneamente così le tre persone divine sono distinte nelle loro relazioni reciproche ma senza successione temporale perché le tre persone sono coeterni e le loro relazioni non sono dentro ma fuori tempo in questa vita non sapremo mai molto sulla Santissima Trinità l'importante è di condurre una buona vita dominando il nostro orgoglio e sottomettendoci ai comandamenti che ti serve saper discutere profondamente della Trinità dice Tommaso da Campis se non sei umile e perciò alla Trinità tu dispiaci infine questo è il modo più efficace per conoscere la Santissima Trinità perché più santamente viveremo quaggiù più pienamente goderemo della visione beatifica della Santissima Trinità in cielo alla sua eterna gloria Amen vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più visite il sito www.radionomalibera.org